ok io ho già provveduto a inserire la presa hdmi al televisore ora vado a inserire la nostra tape c al iphone ora l'ho inserita tempo qualche secondo dovrebbero apparire le immagini sul televisore ok ora ci si è replicato il nostro iphone potete vedere immagini sono piuttosto fluide replicare in maniera proprio fedele il nostro iphone semplicemente inserendo la nostra tape c ciao a tutti